Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogofilo. Oggi recensione dell'album mensile numero 101, La Porta dell'Inferno, che troviamo anche all'interno della grande ristampa numero 34. Copertina di Angelo Stano qui sulla sinistra, dove troviamo un buon ritratto di Dilan, buona corporatura da questa parte, ma qui nel mezzo un disegno davvero scandaloso. Sembra quasi il tratto di un bambino di 4 anni. Qui sono state rappresentate delle anime imprigionate che troveremo sia all'interno dell'avventura, ma qui in maniera troppo davvero semplice e banale. Insomma, un disegno che non convince per nulla, quello nel centro della copertina. Testa e sceneggiatura di Manfredi, disegni di Giovanni Freghieri. Storia che invece convince e riceverà un voto molto alto alla fine di questo video. Cosa succede? Dilan sta tornando a casa e sulla strada trova un senzatetto che viene picchiato. Quindi Dilan deciderà di aiutare questo anziano signore e dopo cercherà insomma di trovargli un'identità. Dapprima lo porta all'ospedale, all'ospedale chiedono i dati di quest'uomo e da qui Dilan scoprirà che quest'uomo ha una casa ma non c'entra mai. E questa è una cosa strana. Allora Dilan entra nella casa di quest'uomo per capire cosa c'è che non va perché è un uomo che è proprietario di un'abitazione e non ci entra e dorme per strada. Quindi Dilan vuole fare luce su questa cosa e scoprirà che dietro a quest'uomo c'è una storia davvero singolare. Quest'uomo è stato accusato di aver diciamo ucciso sua moglie e sua figlia. Però Scott Lyard inizialmente su questa pista poi cambia drasticamente opinione perché si risolleva il polverone di un'indagine non chiusa da parecchio tempo dove per l'appunto questo signore dapprima era indagato in modo principale da Scott Lyard come assassino ma dopodiché ne è stato scoperto un alibi quindi diciamo che questo caso è rimasto irrisolto. L'assassino alla fine si è scoperto che non era più lui e quindi Dilan vuole diciamo chiudere, concludere questo caso una volta per tutte. Anche perché contemporaneamente ritorna un nuovo assassino che va in giro ed imita le gesta dell'assassino di queste donne e bambini quindi una sorta di diciamo delitto copiato o meglio un pazzo maniaco che decide di riproporre dei delitti avvenuti in passato di ricalcare le orme di un assassino non ben definito che si scoprirà solamente verso la fine dell'avventura. Quindi quest'uomo senza tetto rimane all'ospedale nel frattempo con sua sorella che lo cura e Dilan andrà in giro per Londra a cercare il vero assassino che riuscirà a scagionare una volta per tutte quest'uomo senza tetto. E quindi cosa succede però diciamo nel corso di questa indagine? Dilan scoprirà che questo nuovo assassino che vuole imitare i delitti avvenuti anni fa compie dei rituali molto squilibrati vuole sacrificare delle vittime donne e bambini al demonio ma non ci riesce perché puntualmente sbaglia a tracciare i vari simboli e utilizza simbologie che non combaciano tra di loro. Questo fa sì che le varie anime rimangano intrappolate in questi cerchi mistici. Da una parte l'assassino disegna il pigreco che sarebbe il simbolo della libertà dell'infinito che riesce a liberare le anime e portarle in un'altra dimensione e dall'altra parte l'assassino stesso circoscrive anche questo cerchio che racchiude questi anime. Insomma fa un po' un pasticcio e queste anime rimangono intrappolate fra queste due simbologie. E quindi qua Block suggerirà a Dilan la pista di un pazzo maniaco che non ha le idee ben chiare e da qui Dilan riuscirà a trovare quello che è il nuovo assassino. Ma attenzione poi una volta questo assassino è stato preso Block dirà il caso è chiuso invece Dilan non ci crede va avanti nelle indagini capisce che il senza tetto non è stato lui a svolgere, a commettere i vari delitti in passato e attenzione agli spoiler è stata in realtà la sorella che ha voluto ammazzare la figlia e la moglie di suo fratello perché secondo lei andavano a turbare la relazione fra la sorella e il fratello. Insomma questa sorella molto affezionata al fratello si sentiva privata dell'affetto che ha compiuto questi rituali non precisi mischiando simboli a caso e dopo in futuro c'è stato questo mitomane che ha voluto ricalcare l'onda di questa assassina proponendo nuovamente questi delitti nello stesso modo superandi sbagliando nuovamente a mischiare le simbologie. Insomma un racconto che vuole spiegarci morale della favola che non bisogna scrivere e utilizzare simboli di cui non si conosce il vero significato ma è scherzare con queste forze del bene oppure del male. Una storia che tutto sommato mi è piaciuta, molto intricata la trama è particolarmente più avvincente di quanto magari ve l'ho raccontata io fino adesso quindi una trama molto più solida, molto più elaborata e distesa rispetto a quanto detto da me fino adesso io vi ho fatto semplicemente un rassunto poi la storia rivela molti retroscene e molti altri particolari interessanti il tutto condito con disegni di Giovanni Freghieri che questa volta mi sono davvero piaciuti che questa volta mi hanno davvero convinto disegni molto più delineati quindi Dylan ha un'espressione più sicura in alcuni tratti ha delle somiglianze più accentuate al personaggio originale di Rupert Everett sul quale si basa l'aspetto di Dylan Dog Graucio è stato disegnato anche lui bene e gli ambienti in particolare, le pieghe dei vestiti i piccoli dettagli che si trovano qua e là vedete questa casa abbandonata, il maggiolino insomma secondo me Giovanni Freghieri in questa occasione ha avuto più tempo per lavorare sui disegni e disegni che appaiono più accurati e questo non può essere che un bene Giovanni Freghieri che riesce a mischiare dei nombreggiatori molto horror e riesce anche a riprodurre dei disegni riguardanti la vita di tutti i giorni davvero in maniera molto molto buona quindi nelle scene horror come questa qua dove Dylan si addentra in questa casa misteriosa dove troviamo questa bambola ad esempio insomma ci sono delle particolari atmosfere che Giovanni Freghieri è riuscita a ricreare molto bene attraverso anche un sottile gioco di ombreggiature e poi ci sono anche altre occasioni dove Dylan semplicemente va a Scotland Yard nell'ufficio di block eccetera e anche qui le luci, ombreggiature e situazioni sono state ricreate molto molto bene disegni quindi superiori alla media Giovanni Freghieri che in questa occasione riesce davvero a stupirmi e riesce a ricreare anche tante sfaccettature di una sceneggiatura di Manfredi davvero particolarmente elaborata anche l'onirico interviene in questa storia e soprattutto un personaggio di Graucio che dà un tocco significativo alla ben riuscita dell'indagine Manfredi è stato in grado in questo racconto di proporci anche un Graucio molto attivo molto proattivo non come al solito che troviamo Graucio in disparte poverino che non c'entra mai nulla con la storia ma questa volta finalmente per fortuna troviamo un Graucio che ha un ruolo attivo all'interno di questa avventura attraverso dei dialoghi simpatici con Dylan e attraverso tante battute comunque Graucio propone vuole dire la sua per risolvere questo caso insomma un Graucio che mi è piaciuto ben implementato soprattutto nei testi questa volta quindi mentre Dylan svolge le sue indagini Graucio va a riempire dei buchi delle lacune che Dylan ha nel suo ragionamento che porterà alla soluzione del caso quindi molto molto buono il personaggio di Graucio in questa avventura che altro dire voto finale sicuramente 8 per una storia che davvero merita di essere letta ottimo numero mi è piaciuta se non l'avete ancora se non l'avete ancora avuto occasione di leggerla andate a recuperarla perché davvero molto molto avvincente soprattutto anche perché Manfredi è stato in grado di proporre una visione da incubo in sintonia con una visione investigativa quindi un racconto giallo che però si mischia molto molto bene al mondo dell'indagatore dell'incubo quindi un giallo oro quindi diciamo più mondi messi insieme che propongono una storia davvero ben riuscita quindi se se volete leggere questo albo e siete curiosi di scoprire l'assassino o insomma se volete trovare degli indizi qua e là per conto vostro potete farlo e al contempo avete anche un'atmosfera di incubo generale insomma una storia che secondo me è molto completa per il momento è tutto se questa recensione ti è piaciuta condividila dove vuoi con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog oppure iscriviti al canale semplicemente per darmi un feedback positivo per farmi sapere che ti piacciono i miei video e noi ci vediamo in una prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo